bella 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 a tutti raga benvenuti in questo nuovo smr notturno si vede con l'io di mani mi sento un coglione a farlo ma a farlo tutti vabbè andiamo andiamo vai allora cercheremo di fare un win fermi metterlo perché sennò ancora registro la chicchia porca roia fermi ok vai andiamo ragazzi andiamo a secolo e proviamo a fare sto cazzo di ASMR vabbè finchè non starta la partita noi facciamo gli sfrigolini di mani non 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 per tutti facciamo il piano a me abbiamo un po' di affare fare una partita speriamo di scendermi ok dove cazzo ci puntiamo guardate che cosa sto registrando alle 22.50 devo fare il chieniano perché i figini durano guardate che non sto però oltre siamo sciolati non c'è un gioco non c'è un gioco ma 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 non c'è un gioco porca di quella botase io non ando per un gioco E' un piccolo suono, urlò, quelli là vengono e mi spaccano la faccia, quindi proverò a parlare il più piano possibile, però anche allo stesso tempo, non posso dire l'audio, e anche se no, non so per tromparlo. Ecco le guy bot, va bene, non so per tromparlo. Sì, non so per tromparlo, non so per tromparlo. Sì, non so per tromparlo. Cosa cosa è un po' di questo? Va, 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 va... Io ho posto, io posso, io ho posto, ma io ho posto. Che vuoi, io ho posto? Ti fa? di questa roba, mi sento troppo, mi sento troppo colione a fare sta cosa, però mi trovo anche noi, ci sono tutti raggiunti, almeno dico almeno 10 like, vi vengo sotto casa e vi stupro, perché a quest'ora non potrei nemmeno registrare, perché se i vicini mi ive casano, mi stupro, poi lo dormerò più alto alla termine nel testo, mi nemmeno senti contro la porta? Sì! 1,2,1. ok abbiamo capito che ci asfaltano vabbè non ci sapeva mai vabbè cazzo se l'h l'ha per tantissimo però non c'è problema facciamo un video così lo carico più o meno cioè è molto easy sciallo sciallo non c'è una partita vabbè non c'è un video però questo qua è molto probabile cazzo la texture dell'acqua dai dai figase l'acqua facciamo insieme ai liquidasti della tastera vabbè non cazzo 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 non capisco questa cosa e non capisco questa cosa e non capisco la ria non mi sento il primo e non mi sento il primo no lo scatto cazzo ea ah direi di andare via va bene era ripetibile cioè muriamo sicuro mi ha detto che vinciamo mi fanno le zanzare negli occhi vantale via ragazzi ma non ce ne so tutto questo zanzare ok c'è un paura di bruciare quelli e poi io sono con l'emmo no con l'arie che so giocare ok 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 no 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 yes no 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 Grazie a tutti. 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 Ehm no oh porca puttana eh vabbè non c'è ma Cristo si mi sa che se avevo più mazzo sai che mi sa la vinciva se avevo più mazzo se avevo più mazzo gli salivo in Ike e lo staggevo or per lupi lupia Grazie.